ma questo è un nuovo video oggi siamo sul nuovo gioco e si chiama kick the body no e no non è importante non è bello e non è successo niente in questo video non è successo niente fidatevi di me non è successo niente fate finta che non è apparsa questa cosa e neanche che ha ballato io me ne vado ma che è tornato ma che s'era cos'era quel rumore anche questo che appare un rumore a casa e intiamo a questo questo gnomo questo gnomo o qui lo portavo in giro e non c'è scritto zero oh so che voi non mi sentite aspettate quanto si fa male da sempre rumori fastidiosi ok eccoci adesso devo scassare di botte si ammazzano son di botte possiamo cambiare profilo io andrei prima in staffa possiamo vedere armi tantissime ci abbiamo c'è armi gratis io inizierei dalla pistola dalla berretta vai via brutta mostro vai via vai via si ma fa un po' cacare fa un po' cacare sta berretta fa un po' cacare meglio le mani meglio le mani che la berretta che è un tipo di pistola africana scarsissima ok no forse meglio quella berretta stai fermo un attimo stai fermo 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 ma non fermo è morto fino a me grazie un pacco regalo è il mio compleanno auguri no grazie mi è appreso in considera pubblicità 200 ormai grazie mille cosa potrei comprare con 200 o anche questo della stai fermo sicuramente oh guarda abbiamo un'altra da guerra fa un sacco di donne fa un sacco di giorni ma vieni qua ti scassa di botte ti scassa ti scassa di botte ma vieni qua questi mi ti scassa di botte grazie un altro regalo questa volta è con la pubblicità eh non c'è solo uno kick the bag ci sono anche due ah c'è il secondo a che loser guarda non lo dire mai più eccoci qua ma non mi ha dato niente il regalo uffa rad ha detto a sfocco la mia rabbia tutti da kick kick mi chiamerò kick il pupazzo purtino sì kick il pupazzo purtino anzi pupazzo di pezza purtino ho stoffa sembra più stoffa ho cartone ma mi ha detto pupazzo di cartone questo è meglio cambiare asno porca putta posso dare era un inganno come al solito era solo uno stupido inganno ok ecco c'è spada che per a vip si compra si compra con dei diamanti si compra con dei diamanti c'è una sword c'è una clava clava anzi una katana c'è una katana oh le marcette sono gratis ah devi guardare 5 video lo farò quanto non farò un episodio magari allora questo è un'altra arma le granate ora uh qua si diventeremo inserita posso mettere mille no credo che è un po' oh non vuole morire non vuole morire con tutte le stranate non vuole morire ok forse ora è un po' svenuto sta dormendo non è un morto è svenuto non sta dormendo mi credete ragazzi vero vero è morto vero guarda ve l'avevo detto che non era morto stava solo dormendo guarda ora lo posso guardare dalla granata attento visto sono un proteggatore perfetto e lo faccio saltare in aria quanto è fai perché sono felice di aver salvato e quindi lo faccio fare lo faccio saltare in aria mica per torturarlo no e questi sono buffi di felicità non sono buffi non sono schiaffi di 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 tortura e questi sono gradate di felicità che ti danno più vita vi credete ragazzi vero non denunciatemi ragazzi ti prego non denunciatemi ho una vita ho delle ho dei pupazzi di pezza da sfamare non denunciatemi ok ora finiamo con gli scherzi adesso non è ancora capita che si abbia questo cestino per buttare la spazzatura che abbiamo messo in giro non si vede ma in realtà è tutto nero voi lo vedete il cialo ma in realtà è tutto nero veramente è tutto nero vediamo cosa fa paddy è un alieno dello spazio ragazzi dobbiamo sopprimerlo dobbiamo sopprimerlo ragazzi dobbiamo sopprimerlo è un alieno è un alieno fottuto alieno ragazzi dobbiamo sopprimerlo dobbiamo prendere un'altra arma per sopprimerlo ragazzi dobbiamo prendere cosa per sopprimerlo ragazzi 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 oggi stai lontano alieno dal pianeta persa dal pianeta pianeta persa stai lontano grazie per il regalo ok pianeta si ma vabbè ma sti batti continuano a vivere e la pubblicità continua a romper il ca ah mamma mia questi babbi sti badi dei gorzi continuano a rompere ogni volta di vivono ogni volta sono immortali praticamente fanno finta di morire 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 basta questo regale di me vabbè ma quanti soldi è questo ma dammeli a me a posto di fare cazzate con quei soldi dammeli a me grazie per il regalo 50 dollari grazie c'è anche freoro quello lo prenderò dopo e c'è un atto badi gorzo qual è il vero badi ditemi qual è il vero badi c'è anche profilo guarda roba da me guarda roba ho comprato una maglietta bruttissima a casa ho comprato una maglietta bruttissima a casa vabbè che scarpe fashion vediamo belle scarpe gabbi per le scarpe tu non hai belle scarpe bruscita di me comunque ragazzi per questo video è tutto iscrivetevi al canale lasciate like e iscrivetevi al canale il mio ovviamente del canale di kick the body con le scarpe davvero fashion wow comunque a parte gli scherzi questa era tutto per il video e noi ci vediamo da 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 me e da badi con le scarpe fashion ciao